Mercoledì della sedicesima settimana del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Matteo Quel giorno Gesù uscì di casa, e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a Lui tanta folla, che Egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose comparavole. E disse, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli, e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, e diede frutto. Il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi? Ascolti. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla, che dovette salire su una barca, e là forse a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Quanta gente ascoltava Gesù! Quante folle! Anche oggi moltissimi leggono il Vangelo. Lo ascoltano, ma ciò che fa la differenza non è tanto il semplice ascolto, ma la qualità di questo ascolto. Ecco perché Gesù prosegue con la parabola del seminatore. Infatti, il problema non è se Dio parla o meno. Dio parla sempre. Ci parla attraverso le circostanze, le relazioni, le cose che ci succedono, le persone che abbiamo accanto. Ci parla nella liturgia, nelle pagine del Vangelo, nella parola della Chiesa. Ci parla con un dolore o con una gioia. Dio ci parla sempre, ma la cosa che dobbiamo domandarci è, che terreno di accoglienza è il nostro? Una parte del seme cadde sulla strada, e vedono gli uccelli, e la divorarono. Un'altra parte cadde il loco sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma, spuntato il sole, restò bruciata, e non avendo radici, si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine, e le spine crebbero e la soffocarno. Un'altra parte cadde sulla terra buona, e diede frutto. Distrazioni, facili entusiasmi, preoccupazioni, sono il modo con cui spesso ascoltiamo ciò che Dio ci dice. E' difficile poter portare frutto quando si è superficiali. E' difficile portare frutto quando si vive solo di pancia. E' difficile portare frutto quando le nostre preoccupazioni ci fanno concentrale solo sul dente che fa male. Ma si può anche essere terreno buono, e questo accade quando si cerca di essere umili, attenti, realisti. Accade quando si smette di fidarsi troppo delle emozioni per dare invece retta al cuore che ha una sua straordinaria intelligenza. Accade quando si smette di vivere con l'ateismo pratico di chi dice che Dio esiste, ma vive come se fosse solo al mondo. Quando questo cambiamento accade, allora diede frutto dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi, intenda.